Che cosa sapevi della Verona come squadra, a parte il fatto che purtroppo ha segnato sempre un gol più degli avversari in questi anni, però subisce tanti reti in questi ultimi campionati? Beh, conosci due club di Verona. Sapevo che ci sono due squadre a Verona, il Chievo e l'Ellas. L'anno scorso ho seguito un po' di Serie A e quindi ho visto un po' di Verona, delle partite di Verona e ho visto anche che si è piazzato, ha terminato il campionato con un buon piazzamento. E poi, come ha detto prima, sapeva dei giocatori che militavano nella squadra. Ho letto qualcosa sulla tua biografia e ho visto che sei nato come centrale difensivo e poi sei stato spostato a sinistra. Volevo sapere quali sono le tue caratteristiche e dove ti piace giocare. Sì, è vero che nasco come centrale difensivo, ma mi sono adattato. È stata un'evoluzione naturale passare a sinistra, decisa dal mister di allora, quando ha cominciato a giocare a livello professionale. Io ho semplicemente seguito l'indicazione e mi sono trovato bene, mi piace come ruolo perché mi permette comunque di salire e di interagire direttamente con l'attacco. E dice anche che come caratteristiche tecniche lui si sente un buon difensore, molto rapido, molto veloce. A che percentuale stai come condizione? Sei stato non benissimo, avuto la tendinite? Qual è il tuo grado di condizione adesso? Se ti senti pronto già di essere al 100% per la partita di sabato o magari ancora dopo per quella con la Roma? È vero che ho avuto un po' di ritardo nella mia preparazione sull'attacco, ma ho avuto tempo di giocare un po' contro l'Ambur, ho giocato 45 minuti contro l'Ambur. È vero che ho avuto un po' di ritardo nella preparazione, ho avuto qualche problemino all'inizio, ma adesso sono perfettamente in forma fisicamente e mentalmente e pronto per la partita di sabato. E' un salto importante, nella Serie B francese, tu hai giocato nella Ligue 1 per qualche decina di partite, però prevalentemente la tua carriera si è svolta in Ligue 2. Dicevi prima che la differenza è la tattica tra Italia e Francia, ma il salto tecnico che c'è fra il campionato di Serie B francese, chiamiamolo di Serie B, e la Serie A italiana, come te lo aspetti e come ti stai preparando per affrontarlo? So bene appunto di aver fatto un bel salto per arrivare in Serie A, l'unico modo per prepararsi è lavorare, sto lavorando, ma sono pronto anche mentalmente a questo salto. So bene appunto di aver fatto un'altra cosa. Faccivi dicendo prima a Toni Pazzini, coppia d'attacco di questo Verona, ti chiedo da difensore com'è trovarsi a misurarti con questo tipo di campioni, come Luca, come Gianpaolo, è stimolante quando ti fa evolvere anche come giocatore? E' sempre interessante conoscere questi campioni e allenarsi insieme a dei campioni come appunto Toni e Pazzini, dai quali si impara sempre molto quotidianamente in ogni allenamento. Che Verona sta nascendo Samu, in ultima ti chiedo questa, nel ritiro di Racines e in Austria avete lavorato molto, che squadra sta nascendo visto che sabato c'è il primo impegno ufficiale? Sono molto colpito di come sono stato accolto a Verona, mi sono sentito molto bene, benvenuto qui, vedo che c'è un buon progetto e sono contento di farne parte e farò del mio meglio appunto per fare la mia parte in questo bellissimo progetto.